Sono asseraiati sul tetto della cattedrale, pronti a commettere gesti eclatanti. Gridano le loro motivazioni ai vigili del fuoco, pronti a intervenire ai diversi passanti e turisti che si trovano in lungo corso Vittorio Emanuele. Stiamo parlando di una trentina di ex-pip del bacino Emergenza Palermo, che dopo aver trascorso in segno di protesta diverse notti sotto il porticato della cattedrale, accolti e sorretti anche dal parroco Don Filippo Sarullo, adesso si dicono stanchi di una situazione che li vede senza un posto di lavoro e privi di uno stipendio da 11 mesi. La ragione della loro esclusione dal sussidio di 832 euro mensili risalirebbe all'entrata in vigore nel maggio scorso di una legge che richiede per i lavoratori chiari requisiti di moralità e buona condotta, quindi in buona sostanza anche una fedina penale immacolata. Ma così non è per tutti, dal momento che il bacino accoglie diversi ex detenuti che però dicono, avendo scontato la pena siamo ormai pienamente riabilitati e abbiamo anche in passato lavorate strutture pubbliche tra scuole e ospedali. Dopo il passaggio di questo bacino di precaria alla regione però le regole sono cambiate con valore retroattivo. Per questo motivo i manifestanti continuano a chiedere un incontro con i rappresentanti del governo regionale.